Che succede? Simone. Cosa? Mi tradisce. Carlo? È di turno. Come l'hai scoperto? Trovati i massaggi. Tipico. Da due anni, eh? Vero? La mia vita è distrutta. Dai, calma. Piuttosto mi stupisce che non sia successo prima? Veramente è già successo prima. Ah. Un cameriere. Era andato al ristorante per fargli una sorpresa. Mai fare sorpresa. 22 anni. Di cameriere. Una cosa così, eh? Attrazione erotica. Lui ha detto che è stata solo una sbattata e ha giurato che non sarebbe mai più successo. E invece? E adesso mi lascerà. Che faccio? Domani avremmo dovuto festeggiare il nostro anniversario. Tesoro, tesoro. Calma. Ehi. Ehi. Sono tua sorella. Lo sai quanto ti voglio bene. Quanto ti ammiro. Io farei di tutto per te. Ma al posto di Simone io ti avrei già lasciato da un pezzo. Amore, che cazzo dici? Paolo, sì, dai. Da quando è nato Leone non hai fatto altro che pensare a pappe, pannolini, pediatra, vaccinazioni e poi scuola, compiti, allenamenti, il corso d'inglese, il corso di genese, tutto il resto. Oh, ti capisco, eh? Io ne ho pre... Eh, sì. Volevo essere un bravo genitore. Che colpa è questa, eh? Ma no, assolutamente nessuna colpa. Però sei diventato un marito noioso. Prevedibile. E poi, Paolo, avrei messo su dieci chili. Sette. Dieci. Dov'è finito il vostro rapporto? Dov'è l'eros? L'eros? Ma... Ma la nostra coppia si passa su altre cose. Sull'amore. Almeno credevo. Vuoi parlare d'amore? Parliamo d'amore. Da quanto tempo è che non guardi negli occhi tuo marito? Che non gli chiedi come sta? Che non lo abbracci? Che non gli chiedi quali siano le sue... i suoi pensieri? Le sue paure? Perché ci manca il tempo, capisci? Sì. Allora tu, vedi di dedicarti di più al vostro rapporto e meno alle stronzate. Parlo per esperienza. Carlo. Ventisei anni. Insegnante di yoga. Due tette che sembrano mele verdi appese a un ramoscello. Flessibile come un manichino e un culo di marmo. Carlo! 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 L'ho beccato in macchina sotto la scuola di yoga. Lei era nella posizione... Pompino al guidatore. Ma... Carlo! Stassoccola. Ma non mi hai detto niente. E tu cosa hai fatto? E che cosa avrei dovuto fare secondo te? Ma massacrarlo! Divorziare, lasciarlo in mutante, togli tutto, tu! E invece l'ho perdonato. Sai perché? Perché ho capito che era anche colpa mia. Sai che ho fatto? Gli ho proposto un trisone. Cosa? Un rapporto a tre. Ma lo so cos'è un trisone, ma... Non l'avrei perduto? No. La zoccola si è rifiutata. Il punto è che io non mi sono arresa. Ho lottato per riconquistarla e ce l'ho fatta. E guarda che è successo subito dopo. Un regalo dal cielo. È arrivata Clarissa. Mamma! Vedi la zoccola? Da chi l'hai sentita questa parola? Niente tu! C'hai le antenne! Vai a letto, dai! Adesso ti raggiungo. Buonanotte, tesoro! Paolo. I mariti. Eteruomo. C'hanno solo bisogno di un po' di fantasie. Se tu davvero ci tieni compatti. Ok? Domani festeggiate il vostro anniversario come avete programmato. Va bene? Stai caldo. Oh. Sono con te. Adesso torna a casa prima che torni l'uno. Beh, allora io... Io vado, eh? Oh. Ti voglio bene. Vai. Oh. Grazie.